Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare della situazione un po' particolare che sinceramente parlando mi ha lasciato un po' perplesso. Allora, partiamo da un presupposto molto semplice. Partiamo dall'inizio di questa storia, partiamo dal principio. E partiamo dal principio perché sapete che negli ultimi tempi, insomma, nelle ultime notizie che avete letto, sapete bene che Pogba è stato sospeso ovviamente in maniera temporanea per quanto riguarda la sua positività al testosterone. Sapete che il testosterone, ragazzi, è una sostanza che all'interno comunque dello sport in generale non credo proprio sia legale e quindi di conseguenza se un atleta viene colto, diciamo, nell'assumere il testosterone, viene comunque giustamente giudicato dopato. Però sapete bene che purtroppo non sempre assumiamo farmaci di nostra spontanea volontà. Potrebbe essere che Pogba abbia assunto un farmaco contenente del testosterone in maniera del tutto involontaria. Potrebbe essere che abbia preso un integratore che lo conteneva del tutto involontariamente. E noi faremo le controanalisi. Però ci sono delle cose che stanno, che vanno dette assolutamente e bisogna fare un po' il punto della situazione perché vi devo raccontare alcune situazioni che sono legate comunque a Pogba. Devo dirvi parecchie cose. Ovviamente, ragazzi, cosa dobbiamo fare? Prima di iniziare cosa dovete fare? Ripeto, prima di iniziare basta andare qua sotto. Ovviamente, sempre e comunque, prima di cominciare, prima di iniziare basta cliccare su iscriviti, mettere un bel like. Ovviamente al video e attivare la solita campanella delle notifiche. Perdonate, ragazzi, se ogni tanto faccio così, ma insomma, ho avuto il tempo, cose varie. E se vi va potete ovviamente anche seguirmi sui social. Questo è veramente molto importante. Allora, se Pogba ha sbagliato, e ti sto parlando se lui ha assunto quella sostanza sapendo di assumere quella sostanza, io ho sempre detto, l'ho detto anche ieri, che è giusto che lui sia preso e mandato via. Io l'ho sempre detta questa cosa perché sono molto coerente su questa cosa qua. Non accetto e non mi piace chi fa uso di queste sostanze. Però potrebbe essere che sia involontario. Quindi è inutile mettersi qui a colpevolizzare le persone. Quello che a me stupisce è una bella parte del tifo anti, quindi quello che va contro la Juve a tutti i costi, formato dai nostri sudditi, tra virgolette, perché per me una persona ossessionata da un'altra è un suddito. Quindi per me le persone ossessionate dalla Juve, che parlano sempre male della Juve, sono suddite. hanno espresso dei pensieri molto particolari. Io non prendo lezioni di onestà, non io, ma neanche Pogba dovrebbe, dall'Inter o dal Napoli. Non prendo lezioni di onestà da due tifoserie, che sono state le prime, che si stanno sciacquando la bocca, nonostante il loro passato sia segnato dal doping e anche da altre sostanze. Non posso prendere lezioni da gente del genere. Non posso prendere lezioni, ragazzi, da una squadra che ha dopato un'intera rosa con dei caffè con all'interno sostanze dopanti, che hanno provocato problemi a giocatori che avevano solamente come colpa quella di essere lì, perché non avevano nessuna colpa. Non posso andare a prendere lezioni da una tifoseria che ha vinto dei trofei, nascondendo determinate cose e andando a sfruttare un determinato soggetto per poi abbandonarlo nel momento del bisogno. Quindi io lezioni di moralità dall'Inter e dal Napoli o da qualsiasi altra squadra non le prendo mai. Quindi chiunque stia parlando di Pogba, a me fa ridere, perché veramente credo che siate la forma più bassa di intelligenza che ci sia sulla faccia. È una cosa incredibile. È gente che parla di Juve, che sarà penalizzata, perché contro l'Udinese Pogba è stato ritenuto positivo. Pogba non ha neanche giocato all'interno di quella partita, quindi mi spiace per voi. Ma anche se è positivo in Udinese, comunque in Udinese e in Juve o quello che è, Pogba non ha neanche messo piede in campo. Quindi essenzialmente non ci sono gli estremi per andare a prendere provvedimenti del genere. Ma ti voglio far capire quanto queste persone sono piccole, quanto queste persone sono poco intelligenti. Quindi tu porti sul petto una Champions League vinta con gente che prendeva anfetamine e hai il barbaro coraggio di fare la morale a Pogba perché ha assunto degli steroidi, del tesosterone. Cioè che potrebbe averlo assunto semplicemente perché ha preso un integratore e basta. Cioè siamo proprio alla follia qui. Qui chiunque può parlare ultimamente. Qui parla chiunque. Qui parla chiunque. Qui c'è sempre qualcuno che parla male di qualcun altro. C'è sempre qualcuno che offende qualcun altro. Io direi di guardare indietro. Cioè quando dovete parlare male della Juve o di qualcuno della Juve dovete guardare indietro. Se le vostre squadre sono pulite e non hanno mai fatto niente di male e i vostri giocatori non sono mai stati colti in qualcosa di sbagliato, allora potete parlare. Siccome io ho la lista completa di tutte le varie situazioni, vi conviene non parlare. Perché se sciogliamo poi noi e arriviamo veramente a tanto, quindi veramente da questo punto di vista è chiaro. Passando al discorso di Pogba. Il discorso di Pogba è un discorso che purtroppo va affrontato con calma e razionalità. Nel senso che non ci si può neanche andare ad avere un atteggiamento giustiziale se vogliamo. Quindi andare lì e puntare e dire tu sei colpevole. Non è quello che si dice, non è quello che si fa sostanzialmente. Io credo che Pogba debba essere valutato in relazione all'intenzionalità. Perché ripeto, se Pogba ha assunto questo ormone, questo tesosterone, volontariamente sapendo di assumerlo, allora in questo caso è normale che c'è la squalifica e Pogba la Juventus potrebbe tecnicamente mandarlo. Nel senso che non c'è un altro modo di dirlo. La Juve ha tutto il diritto di sospendere il rapporto lavorativo con Pogba. Quindi da questo punto di vista potrebbe essere mandato via. D'altra parte, se l'ha assunto in maniera involontaria, perché potrebbe avere l'assunto in maniera involontaria, invece non ci sarà niente di tutto ciò. Probabilmente non ci sarà neanche un problema da questo punto di vista. Una cosa dico, Pogba deve essere un pochino più sereno. Sotto tutti i punti di vista. Se deve rimanere qui, se rimarrà qui, io mi auguro che lui la pianti con tutto quello che ha fatto vedere. Perché? Tra l'infortunio al menisco, i problemi con la criminalità, adesso la cosa del doping. Allora, io con tutto il rispetto, io non ti sto dicendo che Pogba ha torto. Però noi non possiamo prenderci tutte queste responsabilità. Non possiamo lavorare sulla base delle responsabilità di Pogba. Capite anche voi che siamo di fronte ad una situazione particolare, è una situazione dura. Una situazione che comunque non può essere risolta con uno schiocco di dita. Cioè siamo di fronte ad un'accusa e siamo di fronte ad un caso particolarmente importante che non si può andare a risolvere con Eh ma tanto che me frega, arrivederci. Cioè è un ragionamento che non sta in piedi. Quindi Pogba dovrà essere valutato nel momento in cui il giro, insomma non ci sono grandi cose, però dovrà essere valutato. Dal momento in cui verrà valutato e si accerterà quella che è la verità su Pogba, purtroppo ragazzi, Pogba dovrà rappresentare, dovrà comunque spiegare questa cosa. Poi è normale che una società che trova una situazione del genere si fa due conti e dice aspetta un secondo fammi pensare perché potrebbe essere che io da questo punto di vista cioè vada a ragionare in maniera diretta e vada a dire guarda ho saputo questa cosa, non ti sospendo, pur lo saputo ti sospendo. Certo è che se viene provato e questo ragazzo ha assunto volontariamente rischia di non vedere il campo per 3-4 anni. Cioè per qualche anno rischia di non vederlo il campo ed è sarebbe una cavolà, cioè dimostrerebbe veramente una cosa ridicola. Cioè come fai a rischiare? Poi ti dico anche un'altra cosa, sapendo che tu possa essere preso perché si può fare un'analisi delle urine, perché qualcuno mi ha detto delle urine, allora si può fare un'analisi delle urine così in una partita, tu sai che può essere che ti controlli, no? Vai ad assumere questi ormoni e tesosterone qualche giorno, cioè sarebbe abbastanza stupido che tu l'abbia fatto. Cioè come fai? È una cosa abbastanza particolare. Io mi auguro solamente che lui non l'abbia fatto sapendo, cioè nel senso che se poi vengo a sapere che Pogba ha l'assunto in maniera coscienziale, io veramente sono uno di quelli che poi vede tutto nero, non mi piace essere dedicato in queste situazioni. Cioè per me non ci sono giustificazioni al fatto che tu possa aver preso quelle cose, a meno che non le hai prese andando ad assumere altri farmaci. Ti ripeto, abbiamo dei farmaci, potrebbe essere che abbia assunto dei farmaci in maniera totalmente involontaria, cioè li ha assunti per curare una cosa e là c'era il tesosterone. Quindi può essere questa cosa. Mi dà fastidio l'attenzione mediatica attorno a Pogba, però non è una cosa che potrebbe essere spiegata come il fatto anche sia della Juve. Io sono sicuro che se Pogba fosse stato di un'altra squadra tutta questa attenzione non gliel'avrebbero data. Però è ovvio che un giocatore importante come questo va ad essere accusato di una cosa del genere, è normale che l'attenzione mediatica ci sia. Quello che non è normale è andare a giudicare gli altri, perché noi adesso non sappiamo le cose, non conosciamo la verità. Nel momento in cui conosceremo la verità, allora potremmo giudicare in relazione a quello che avremo. Io però per adesso, come devo comportare, come devo dire, a Pogba tu sei XYZ, non ti posso accusare. Perché ti ripeto, l'assunzione di tesosterone potrebbe essere svolta, potrebbe essere stata creata, se usiamo questo verbo, tramite la somministrazione di un farmaco che sia esterno. Quindi, questa gente che già va contro Pogba, io direi di finirla, pure i tifosi stessi, cioè datevi un contegno, non voi che mi guardate, ma voi che avete scritto cose veramente gravi, diamoci un contegno tutti quanti, cerchiamo di essere un pochino più persone di classe da questo punto di vista, non andiamo sempre a... sai, prima aspettiamo tutti gli esami del caso e poi prenderemo la nostra... prenderemo, voglio dire, avremo le nostre risposte. Per adesso è impossibile andare ad avere questo atteggiamento. Per me l'atteggiamento che si sta avendo attualmente è un atteggiamento che sinceramente fa un po' ridere. non mi piace... è un atteggiamento... no, no, io, ripeto, non sto facendo nulla di... cioè, no, non sto facendo nulla. Allora, proprio... allora, è proprio una cosa di sentimento, quasi. Allora... non apprezzo chi fa queste uscite. io non apprezzo chi fa queste uscite qua. Ti devo dire la verità. Non apprezzo chi giudica. A tutti i costi. Quindi, io... bisogna capire prima innanzitutto cosa è successo un po' qua. E poi si potrà dare un giudizio sulla sua carriera, sulla sua vita, sulle sue scelte, perché poi mi rendo conto che tanto poi... bisognerà vedere... cioè, secondo me non c'è nulla. non c'è nulla, assolutamente nulla. Però bisogna vedere l'intenzionalità. Cioè, non si può dire Pogba innocente o Pogba colpevole. Non si può dire tutto questo. Capite? Tutto questo. Io mi auguro che lui sia stato abbastanza furbo da non assumerlo volontariamente. Cioè, da non dire... io ho assunto questo, per dire, questo farmaco sapendo che ci fosse del tesosterone, sapendo che io sarei andato incontro all'assunzione del tesosterone, oppure ho assunto il tesosterone per una ragione. Cioè, perché se l'ha assunto in maniera involontaria, viene perdonato. Se l'ha assunto in maniera volontaria, è lì. Lì non c'è... Non c'è veramente niente da dire, niente da aggiungere, niente da fare. Punto e basta. Io sono sempre dello stesso parere. Sono sempre dello stesso parere. Sempre. Punto e basta. Poi ognuno ha le sue opinioni, ognuno ha il suo modo di vedere le cose, ci mancherebbe altro. Fatemi sapere un po' nei commenti cosa ne pensate. Perché fatemi sapere voi la vostra opinione, ecco. Molto importante, Leo. Grazie.